dai prendi sta nafta noi andiamo a lavorare per mantenere le moto la macchina la sposa la casa si però è inutile che tu la spacci per 95 cavalli sta moto a me mi vuoi prendere per il culo a fava kk 80 78,5 90 la moto via c'è 95 cavalli tanti auguri comunque per la moto x j6 quattro cilindri in linea che bello questo qua 59 newton metro di coppia 59 dai andiamo a fare una bella colazionetta e poi dopo si parte no la luigi vuole il tenere 700 è comoda questa comodissima no la luigi no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.